Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video! Questo video è per ringraziare tutti voi che siete venuti al nostro primo evento in Nord Italia il primo evento del Bateras with Bergamo, l'evento con Igor Cavalera e ragazzi, grazie, 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 grazie di cuore sapete che mi sono anche emozionato sul palco e volevo fare un video un pochettino riassuntivo per ringraziare e per cominciare ovviamente chi ha suonato il giorno, quindi Bernardo Grillo è il suo chitarrista dei Colonnelli ce la faccio, ce la faccio, non taglio niente Fabrizio Muro, sono incasinato perché tipo c'erano 40.000 eventi con 40.000 persone diverse ma questo è l'evento di Bergamo e ovviamente ringrazio a Igor Cavalera ringraziare Andrea Bottinelli che è la persona che mi ha dato una mano a realizzare questo delirio e poi tutti coloro che hanno dato una mano menzione speciale va al Rosso, Daniele Colangeli sì, Colangeli, sì, Red perché ha portato la batteria per Igor Cavalera e ha fatto un grande lavoro proprio da amico, da brother per dare una mano, quindi grazie volevo anche spiegare a questo proposito un pochettino i post che ho messo su Facebook perché mi rendo conto che a volte il mio volere incentivare gli altri a fare meglio possa essere frainteso cosa voglio dire con questo? che io ho scritto che l'evento era una cosa che tutti ci avevano detto che non si poteva fare è vero, nel senso che molto spesso mi è stato detto che fare eventi in Sardegna era più facile perché qua eravamo uniti qui c'era una scena e in Orle d'Italia questo tipo di eventi che noi facciamo qua non sarebbe stato possibile fare invece mi interessava proprio spiegare questa cosa e dirvi che come tutte le cose bisogna crederci, bisogna avere pazienza e anche avere un po' di follia quindi l'evento è andato molto bene e come primo evento abbiamo fatto ovviamente delle puttanate come è ovvio che fare la prima volta ma è andata molto meglio del previsto quindi grazie, grazie di cuore è stato fantastico vedervi è stato fantastico conoscervi vedere poi i tag delle foto che mi avete fatto quindi vedere chi di... vedervi in faccia dopo che magari per tanto tempo ce l'avamo partiti su Instagram quindi per me è stata una cosa molto importante per me è stato molto emozionante ovviamente a suonare prima di Igor e a suonare Dusted di sepoltura prima di Igor so che lui era al mio fianco quando stavo facendo i pezzi dei Crippol che a un certo punto era lì che mi guardava blastare ma io non l'ho visto perché totalmente concentrato che mi sono perso questo momento ma forse è meglio perché sarei morto di infarto qui in definitiva ragazzi grazie di cuore per me è stato un onore immenso iniziare questo nuovo percorso in Nord Italia da isolano da persona che ha sempre visto il Nord come qualcosa di eh minchia inarrivabile impossibile fare le cose è stato comunque veramente veramente utile costruttivo conoscere persone nuove conoscere nuovi collaboratori quindi ragazzi grazie 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 ci vediamo presto e a voi l'evento è piaciuto fatemi sapere nei commenti che sono curioso un abbraccio e a presto ciao ciao